I prossimi 3 e 4 novembre si voterà per l'elezione dei consiglieri e dei revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e AIDC Milano ha promosso la lista Valore Professione, Costruiamo Insieme Il Nostro Futuro. I principi ispiratori sono stati quelli che nascono dal fatto che AIDC da anni, tutti i giorni, quotidianamente sul territorio e conosce le esigenze, i bisogni e le necessità dei colleghi. Per questo, grazie a questa esperienza quotidiana, abbiamo potuto presentare una lista che non fosse formata da un generale e da soldati imposti dal sistema ma fosse una lista in cui il Presidente fosse una persona carismatica, empatica, voluta dai colleghi e i consiglieri fossero tutti meritevoli di questa candidatura perché la meritocrazia è ottenuta grazie al loro lavoro nelle commissioni dell'Ordine e nell'attività in AIDC e la specializzazione che ha permesso di riempire tutte le competenze che servono alla categoria per governare l'Ordine ci hanno permesso di formare questa lista. Il candidato Presidente è Roberta Zorloni. Noi crediamo molto nella nostra professione e quindi vogliamo valorizzarla. Per valorizzare la professione non si può prescindere dalla figura del commercialista, un commercialista che deve essere di valore. Per essere di valore deve essere credibile nei confronti del mercato e deve avere delle competenze. Per essere credibile dobbiamo diffondere una cultura etica e per essere competente ci vuole una formazione di qualità. Sono diversi gli impegni programmatici dei candidati per il futuro dell'Ordine e della professione. Questo è un periodo in cui il Consiglio nazionale e tutti noi a Milano abbiamo fatto un grandissimo sforzo proprio perché abbiamo la necessità di upgradare i nostri colleghi che hanno già una formazione specifica molto avanzata ma alcune materie sono ancora presidio di pochi colleghi e sono invece le materie, parlo dell'internazionalizzazione dell'impierese quindi la capacità di accogliere imprese straniere in Italia, seguirle nei loro investimenti e nelle loro attività e viceversa accompagnare imprese straniere all'estero sui mercati che danno delle possibilità, delle chance di sviluppo che magari nel nostro paese in questo momento stanno un pochino diminuendo. Il nostro motto è costruiamo insieme il nostro futuro. I giovani, perché li vedo anche, l'incontro anche in università, bisogna aiutarli innanzitutto a entrare nella dinamica della professione. Bisogna aiutarli a confrontarsi per non rimanere isolati negli studi professionali bisogna aiutarli a entrare nel mondo dell'ordine, delle commissioni di studio, degli approfondimenti, degli scambi interculturali. Un momento ancora prima bisogna aiutarli nell'abilitazione perché noi li dobbiamo incontrare nel mondo universitario per indirizzarli verso il mondo della professione, nella laurea triennale farli incontrare e indirizzarli nella specializzazione e nella laurea magistrale. La professione di dottore commercialista si fonda sull'etica ed è garanzia nei confronti dei terzi, del pubblico e della pubblica amministrazione in particolare. Se poi pensiamo al mio settore di specializzazione, cioè la vigilanza e il controllo societario, assume una dubbica valenza, quella generale e quella di garanzia nei confronti dei terzi della corretta informativa societaria. Un messaggio particolarmente importante ai giovani è che in questo settore di specializzazione nei prossimi anni ci saranno le maggiori opportunità di lavoro.